Benvenuti, ben ritrovati edizione provinciale di 100 notizie e brindisi in apertura spazio I numeri del bollettino epidemiologico diffuso nella giornata di oggi dalla regione Puglia Sono 64 i nuovi casi positivi trovati su 8.021 test giornalieri Purtroppo una persona ha perso la vita Per quanto riguarda i nuovi casi positivi sono 4 in provincia di Bari, 20 in quella di Foggia, 5 nell'Abbatto, 24 in provincia di Lecce 6 in quella di Brindisi, 4 in provincia di Taranto, 1 con provincia di residenza non nota 2.593 le persone attualmente positive, 150 le persone ricoverate in area non critica 16 le persone in terapia intensiva, quindi scende di un'unità questo numero Perché nella giornata di ieri era appunto 17 Cambiamo adesso argomento e parliamo di aria irrespirabile e odori acri in città Parliamo del comune capoluogo, quindi di Brindisi Sono diverse le segnalazioni che sono giunte da diversi quartieri, soprattutto dalla periferia Sull'argomento è intervenuto il sindaco Riccardo Rossi che ha interpellato Arpa Puglia In questi giorni moltissime sono state le segnalazioni di aria irrespirabile e odori acri Riferiti a materie plastiche bruciate provenienti dai cittadini residenti in diversi quartieri della città Così il primo cittadino Riccardo Rossi Ho sentito Arpa Puglia ha commentato che sta verificando le concentrazioni di PM10 e PM2.5 Rilevate dalle varie centraline per fornire un dato quantitativo del fenomeno Arpa non segnala al momento problematiche rivenienti dal settore industriale Ma un fenomeno, analogo a quello dello scorso anno, riveniente da combustione di sterpaglie e materie plastiche E rifiuti nelle campagne limitrofe alla città E di fondamentale importanza riuscire a comprendere dove avvengono e chi è responsabile di queste azioni delinquenziali Per fare ciò Arpa chiede a tutti i cittadini di inviare segnalazioni indicando precisamente il luogo in cui si trovano all'indirizzo email info-arpa.puglia.it Tutte queste segnalazioni consentiranno di mappare le zone di ricadute degli inquinanti e attraverso i propri modelli risalire al luogo di provenienza della combustione Una pratica che ha già riportato risultato positivo a Monopoli dove con questa modalità delle segnalazioni geolocalizzate è stato rintracciato il responsabile del reato ambientale Continuiamo a monitorare il lavoro di Arpa, ha concluso il primo cittadino e invitiamo tutti a segnalare al predetto indirizzo la percezione di odori anomali Elezioni amministrative in quattro comuni della provincia di Brindisi Leggiamo i dati legati all'affluenza alle urne Il dato complessivo dei quattro comuni alle 23 Parliamo ovviamente della giornata di ieri è relativo al 48% mentre per quanto riguarda i singoli comuni la percentuale è sempre alle 23 del 50,95% quindi vicino al 51% a Cellino San Marco 43% a Cisternino 48% a Fasano San Pancrazio, Salentino 50% Ovviamente il dato relativo alle precedenti tornate lo vedete a destra, all'estrema destra è più alto c'è però ancora la possibilità di votare ancora in questi quattro comuni Cambiamo argomento adesso e parliamo di music perché con il concerto di Carmen Consoli si è chiusa la manifestazione che ha portato a Brindisi tre artisti italiani rappresentanti della musica pop un successo per questa manifestazione dal punto di vista artistico ma anche organizzativo e si parla già della possibile destinazione e uso della location suggestiva che ha fatto innamorare davvero tanti cittadini ma anche gli artisti che hanno avuto la possibilità di suonare vediamo il prossimo servizio con l'esibizione di Carmen Consoli si è conclusa la prima edizione di music musica vista mare la tre giorni di concerti che ha portato a Brindisi oltre all'artista catanese Daniele Silvestri e Max Gazze una manifestazione che ha raccolto con sensi unanimi dalla suggestiva location all'organizzazione che ha funzionato nel migliore dei modi nonostante le restrizioni legate al covid gli artisti hanno apprezzato la location per la bellezza l'acustica, l'atmosfera incredibile e la vista sul porto e sulla città ha commentato sui social Riccardo Rossi che sia solo l'inizio di tanti appuntamenti per l'ex capannone Montecatini ha continuato il sindaco inoltre il nostro impegno continuerà finché Brindisi sia sempre presente nel circuito dei concerti e quale sarà il futuro del capannone ex Montecatini lo ha annunciato il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi nelle ultime ore ha raccontato i più grandi organizzatori di eventi italiani mi stanno tempestando di telefonate per la location anche grazie alla rete di relazioni che ho consolidato per via della mia lunga esperienza in Apulia Film Commission stanno arrivando tante richieste di sopralluoghi in tutte le attività ci tengo a sottolineare sarà coinvolta l'assessore Taveri che ringrazio per aver permesso di verificare la correttezza di un pensiero lungo quello di trasformare quel luogo nel fulcro dell'interazione città-porto parliamo della terrazza sul mare più bella d'Italia ha concluso Ugo Patroni Griffi andiamo avanti con il nostro telegiornale il sindacato Cobas dichiara lo stato di agitazione dei lavoratori della Santa Teresa e della Brindisi molti servizi con iniziative di protesta nei confronti delle società e delle istituzioni perché dichiarano dal sindacato siamo fortemente preoccupati dello stato di salute delle due società in house il sindacato Cobas ha annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori della Santa Teresa e della Brindisi Multiservizi perché è fortemente preoccupato dello stato di salute delle due società in house il sindacato Cobas è fortemente preoccupato in modo particolare della Santa Teresa dove alle promesse dell'azienda a voler costruire un percorso di risultati positivi per i lavoratori quindi un impegno ma condizionato dal fatto che le cose devono andare bene secondo noi per il primo gennaio 2022 si possono prevedere dei miglioramenti ma lo lega in maniera indissolubile dai risultati di fine anno del bilancio cosa per cui noi siamo fortemente preoccupati perché Santa Teresa è già sotto di 250 mila Euro lo sarà quasi sicuramente fino a fine anno se non si risolvono i problemi di fondo che ne causano appunto la problematica non sono stati ancora firmati i contratti per gli immobili scolastici e non di proprietà della provincia per una disputa interna tra dirigenti e società su dei problemi di valutazione degli appalti cosa insostenibile perché essendo una società in house ha il diritto alla presidenza cosa che è avvenuta anche per il verde che è stato sciolto il problema dei contratti solo fino a pochi mesi solo pochi mesi fa il sindacato ha in programma alcune iniziative di protesta nei confronti delle società in house del comune e della provincia di Brindisi noi ripetiamo che siamo forsemente preoccupati perché le nostre proteste vertono su di un punto se saremo a fine anno con un bilancio negativo salta il piano industriale per cui la provincia aveva ripianato dei debiti accumulati per il periodo lungo di cassa integrazione chiaramente saltando il bilancio salta anche il piano industriale si portano i libri in tribunale quindi sulla strada del fallimento noi vogliamo evitare tutto ciò recandoci sotto la provincia e avendo dichiarato già lo stato di agitazione pronti allo sciopero cosa diversa per Brindisi Multiservizi i problemi sono un attimino diversi ma concorrono a uno stato di quelli che sono presenti all'interno della società concorrono a uno stato di disagio e quindi l'assessore al bilancio Francesco Sabonaro con la sua intera amministrazione stanno sostenendo un percorso virtuoso affinché questi problemi possano essere risolti leggiamo adesso una nota inviata dal comune di Brindisi in merito ai pagamenti del canone unico patrimoniale cittadini che riscontrano difficoltà nel pagamento dei bollettini pago pa dei dovuti relativi ai relativi al comune unico patrimoniale che sostituisce la tassa per l'occupazione di suolo pubblico la Tosa per l'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni possono effettuare versamenti utilizzando bollettini postali sul conto corrente postale numero 1844525 intestato al comune di Brindisi servizio tesoria Tosa con bonifico sul relativo IBAN che ovviamente trovato indicato sul sito istituzionale del comune nel quale viene specificato anche che deve essere intestato al comune di Brindisi servizio tesoreria imposta pubblicità affissioni o con bonifico sul relativo IBAN che viene sempre indicato nel sito istituzionale del comune viene evidenziato infine che bisogna indicare sempre nel campo della causale il codice fiscale del contribuente quindi una precisazione doverosa per i tanti cittadini che hanno avuto difficoltà nel pagare appunto questa tassa in particolare quindi vi invitiamo ad avere i dettagli a seguire le indicazioni che sono state date dal comune di Brindisi andiamo avanti con il nostro telegiornale parliamo di un'interessante iniziativa perché la polizia di stato domani incontrerà circa 50.000 studenti su tutto il territorio nazionale in particolare in 100 comuni capoluogo italiani per parlare di sicurezza nel web tutto questo in occasione della giornata mondiale degli insegnanti la polizia postale in occasione della giornata mondiale degli insegnanti che si celebra il 5 ottobre in concomitanza della festa dei nonni organizzato workshop sul tema della sicurezza online nelle scuole elementari sul territorio nazionale gli operatori della polizia postale incontreranno oltre i 50.000 bambini ai quali verrà regalato il libro Interland avventure digitali in viaggio col nonno alla scoperta del web il volume dedicato ai bambini e alle loro famiglie per aiutarli ad affrontare insieme ai temi della sicurezza del web realizzato dalla polizia postale in collaborazione con Google e sarà distribuito gratuitamente anche dalla casa editrice Feltrinelli al centro del dibattito con gli specialisti il dialogo intergenerazionale sui temi del digitale e l'aiuto reciproco tra nonni e nativi digitali per sviluppare le competenze fondamentali per vivere online in rete con consapevolezza l'obiettivo delle attività è insegnare ai bambini sempre più precoci nell'utilizzo dei device che nel periodo dell'emergenza Covid-19 sono stati sempre più esposti in solitudine sulla rete e vittime di reato a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo alla violazione della privacy altrui e propria al caricamento di contenuti inappropriati alla violazione del copyright e all'audizione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri nella regione Puglia le scuole coinvolte nell'iniziativa sono l'istituto comprensivo Don Milani di Bari l'istituto comprensivo Da Feltre Zingarelli di Foggia l'istituto comprensivo Tuturano Paradiso e Scuola Primaria Sandro Pertini di Brindisi l'istituto 25 luglio di Taranto e l'istituto De Amicis di Lecce che accoglieranno il personale della Polizia Postale e delle comunicazioni per un'occasione di condivisione e di approfondimento di tematiche quanto mai urgenti e attuali Siamo allo sport il calcio iniziamo dalla Serie C con il pareggio a reti bianche tra Virtus Francavilla e Taranto vediamo il servizio realizzato da Francesco Friuli Finisce 0-0 la sfida della nuova redarena tra Virtus Francavilla e Taranto pari giusto per quanto si è visto il campo Taranto al secondo pari consecutivo per 0-0 il terzo complessivo in campionato il primo pareggio interno per la Virtus Francavilla che addirittura non pareggiava dalla sfida contro la Viterbese il 18 aprile scorso 4-2-3-1 per il Taranto in difesa Riccardi fa l'esterno con Zullo sulla zona centrale parte subito forte il Taranto al terzo Giovinco dalla distanza Nobile alza in corner e migliore l'approccio dei Rosso-Blu al sesto minuto punizione di De Maria Nobile riesce a bloccare la Virtus Francavilla di Taurino 3-5-2 con Ventolo e Maiorino in avanti si farà vedere più avanti perché il Taranto al decimo minuto con Riccardi dalla distanza pallone che viene deviato nuovamente in corner da parte di Nobile come detto il Taranto si fa preferire alla Virtus c'è una punizione di Giovinco respinta dalla barriera l'azione prosegue dalla destra Riccardi cross Giovinco subito personaliti largo al ventesimo al ventesimo c'è Maiorino il giocatore di Paolo VI deviazione della barriera blocca Chiorra la Virtus cresce al ventitresimo si crea l'occasione più importante della partita il pallone viene gestito da parte di Ceciua dentro per Pierno steso da Ferrara e calcio di rigore per i biancazzurri nonostante le proteste degli Ionici e sul dischetto si presenta Maiorino l'autore dei gol più importanti nella sfida di Coppa Italia proprio della gara tra Virtus Francavilla e Taranto che aveva aperto la stagione questo il fallo commesso da Ferrara Maiorino però dal dischetto sotto la previa curva stampa il pallone sulla traversa e si riprende dal risultato di 0 a 0 riapprezziamo il colpo forte di Maiorino la traversa però del giocatore della formazione della Virtus Francavilla che ci prova ancora dalla distanza sempre con Maiorino al minuto 33 al 39esimo ancora Maiorino su calcio di punizione la sfera viene colpita da Idda in area piccola clamorosamente pallone fuori di poco si va così alla ripresa al 46esimo e Pierno incursione in area di rigore ma Chiorra si rifugia in corner partenza migliore nella ripresa della Virtus con la formazione di Taurino che spinge sull'acceleratore al minuto 48 ci prova dalla distanza caporale Chiorra c'è un'altra occasionissima per la Virtus al 64esimo con Enyan stoppa il pallone entra in area di rigore semi nel panico e scarica incredibilmente per Carella tutto solo Chiorra salva in corner il Taranto prova da leggere la pressione al minuto 70 con un lancio dalla tre quarti di Civilleri Saraniti sforbiciata al lato tanti i cambi di Peppe la terza tra cui Labriola che entra al posto tra gli altri di Belloc più veloce di Ceciua Nobile sulla sua botta si distende sulla destra sul finale è tutto in marca Taranto 89 punizione diretta di Marsini Nobile per evitare problemi manda in corner sugli sviluppi ci sarà anche il destro di Riccardi che metterà a lato e addirittura dopo l'intervento di Chiorra e della difesa del Taranto l'occasionissima ce l'hanno i rosso-blu proprio all'ultimo istante al 95 cross dalla sinistra di Ferrara Italeng di testa schiaccia pallone di un soffio a lato finisce 0-0 per Taranto e Virtus Francavilla la conferma di una buona stagione in corso e adesso parliamo della Serie D con il Brindisi che ha perso la terza gara su tre incontri disputati in questo campionato tra zero il netto risultato a favore della Nocerina terza sconfitta su tre gare per il Brindisi che perde anche a Nocero inferiore contro i Rossoneri i padroni di casa hanno gestito la gara colpendo nel momento giusto per l'1-0 la formazione biancazzurra che non ha avuto la capacità di reagire al vantaggio iniziale dei Molossi prima della gara sono stati ricordati i tifosi della Nocerina Frank Fasciani e Antonio Lupetto scomparsi in settimana mister Cavallaro schiera dal primo minuto Peter Resi Vecchione Cason Talamo Palmieri Bruno Chietti Rizzo Garofalo Donna Rumma Esposito Marocchianese risponde con Giappone Capozzo Nallo Di Pasquale Badiere Kick Gaeta Serafino Spinelli Vignes De Luca al terzo minuto ci prova di testa Rizzo ma non riesce a girare verso la porta al nono Re Kick parte in contropiede per il Brindisi ma la sua conclusione viene smorzata al diciassettesimo Chietti per Talamo palla a Rizzo che calcia di poco a lato Tre minuti dopo vantaggio Nocerino Talamo libera con un colpo di tacco esposito che insacca alle spalle di Giappone Solo Rossoneri in campo al trentaduesimo Palmieri mira l'incrocio palla fuori di pochissimo In chiusura di frazione ci prova ancora Palmieri respinge l'estremo difensore ospite Si chiude così la prima frazione con Immolossi in vantaggio per 1-0 La ripresa si apre con il rinnovo del duello tra Palmieri e Giappone La reazione del Brindisi è tutta nel tiro di De Luca che termina abbondantemente alto I biancazzurri restano in dieci al diciottesimo doppio giallo per Falzetta e il resto della gara in inferiorità numerica I padroni di casa raddoppiano al venticinquesimo Rizzo al centro per Esposito che realizza la sua personale doppietta 2-0 e Nocerina in controllo della gara Il trista arriva alla mezz'ora su un errore in disimpegno Barone e Palmieri riazionano Talamo che sigla la terza rete Finisce così 3-0 e Notte Fonda in casa Brindisi con i biancazzurri che mercoledì torneranno in campo questa volta a Sorrento a caccia dei primi punti in campionato è tutto per questa edizione del telegiornale la parte tecnica è stata curata da Dario Spagnolo subito dopo il telegiornale 100 notizie e il fatto con gli allies di tutte le partite del girone C di Serie C grazie per essere stati con noi buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti